Buongiorno da WTV News, oggi 4 ottobre San Francesco d'Assisi. Il 4 ottobre in tutto il mondo si celebra la Giornata Mondiale degli Animali, una ricorrenza istituita nel 1931 in onore del Patrono degli Animali San Francesco d'Assisi. Un'occasione per celebrarli, ma anche per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla salvaguardia e difesa dei loro diritti e del loro benessere. In Italia, dove sono promossi la cultura del rispetto e della cura degli animali da compagnia, più di 4 abitanti su 10 possiedono un animale d'affezione. Molto più di semplici animali domestici sono parte integrante di milioni di famiglie. Tantissimi sono i personaggi noti al grande pubblico che condividono sui social foto in compagnia dei loro animali domestici.